Le modalità di iscrizione? Sì, quest'anno abbiamo deciso di rinnovarci, essere un po' più tecnologici, quindi di conseguenza abbiamo previsto una modalità di iscrizione online, di modo che possiamo già avere i nominativi dei ragazzi e dei bambini in anticipo, di modo da poter eventualmente creare nuove squadre qualora i numeri fossero più elevati di quelli ipotizzati. Per iscriversi è necessario connettersi al sito del Piedimulera Calcio, nella sezione Accademia Settore Giovanile Scolastico, saranno da compilare due moduli, un modulo per quanto riguarda i dati anagrafici del genitore e del bambino o ragazzo minorenne e un modulo per quanto riguarda le autorizzazioni della privacy. In questo modo le iscrizioni arriveranno direttamente sulle email del Piedimulera e del Bogogna, e di conseguenza potremo procedere con i tesseramenti.